Glaxo ha voluto incrementare all'interno del progetto Leggere per crescere la sua attenzione nei confronti delle disabilità, dei cosiddetti bisogni educativi speciali. Allora abbiamo realizzato questo progetto consistente sostanzialmente nello sperimentare un modello di prevenzione delle disabilità a partire dall'infanzia. Il modello è consistito sostanzialmente nel mettere in atto una sorta di sperimentazione che abbiamo fatto sul territorio di Verona e provincia, all'interno della quale abbiamo sperimentato un modello ricavato dall'ICFSI, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. In questa sperimentazione abbiamo coinvolto da un lato le scuole dell'infanzia, gli insegnanti, e li abbiamo formati proprio sulla osservazione dei bambini attraverso il modello ICFSI. Abbiamo coinvolto anche i pediatri del territorio, in quanto sono quegli interfaccia naturali di quelle segnalazioni spontanee che talvolta vengono dalle famiglie o dalle scuole, dalle insegnanti. Segnalazioni spontanee che in alcuni casi non sono realistiche, nel senso che magari non sono segnalazioni di effettivi problemi, ma talvolta sono quelle segnalazioni che consentono di avere una presa in carico precoce di quei bambini che in alcuni casi davvero hanno bisogni educativi speciali e hanno problematiche che possono trasformarsi in disabilità.